Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video Siamo in live in questo momento, come potete vedere indosso la maglia di San Gigi Buffone Non San Gianluigi Donnarumma che da quando è andata a PSG non capisce più un cazzo di niente E comunque sono appena terminati i sorteggi per i playoff per il mondiale Quindi grazie infinite a Giorginio, ma non solo grazie a Giorginio Ma le prestazioni indecorose dell'Italia di Mancini E comunque l'Italia è andata un po' asculando, diciamo così Allora, organizziamoci, vediamo tutte le combinazioni Gruppo A, semifinale 1, Scozia-Ucraina Semifinale 2, Galles-Austria Quindi ci siamo scansati l'Austria e meno male se ne dire Gruppo B, semifinale 3, Russia-Polonia Semifinale 4, Svezia-Repubblica cieca Quindi ci siamo scansati anche la Polonia Polonia che nel mio pronostico avevo pronosticato un'Italia insieme a Portogallo Sì, Portogallo Austria e Polonia Gruppo C, nostro ultimo gruppo, diciamo Semifinale 2, Italia-Macedonia Quindi voi io portatevi le coppette e le forchette Così ci mangiamo una bella Macedonia di frutta E poi Portogallo-Turchia Mamma le turchi! Allora, vedendo le partite Per me passano l'Ucraina-Austria Poi Polonia-Svezia Poi Polonia-Svezia Si spera Italia Si spera Italia Facciamo 3.000 cruce E poi Portogallo Poi le finali si vedranno Semifinali si giocheranno il 24 marzo E martedì Mentre la finale il 29 marzo Giornate Allora, sono partite paradossalmente facili Per l'Italia, paradossalmente E io mi aspettavo, come ho detto prima, l'Austria O la Polonia Comunque ci è capitata La Macedonia di Elmas Che Waiu Elmas è l'unico top player che hanno Quindi se perdiamo con Elmas Io vado fino a Coverciano E non so che cazzo mi mettero a fare Ok? Quindi non vi permettete di uscire con la Macedonia Ma manco con Ronaldo Perché il Portogallo, Waiu, è battibile Per me il Portogallo è battibile Certo, vedere Il Portogallo Che abbiamo visto con la Francia Se non mi sbaglio In questo europeo Insomma Era tanta roba Non meritava di uscire Ma comunque Noi se torniamo a essere l'Italia Un gran gruppo L'Italia dei gironi Precisamente Possiamo fare tante cose Ovviamente Non voglio vedere l'Italia Post europeo Un'Italia Un'Italia appagata Un'Italia che si è accontentata Dell'europeo Soprattutto da parte di alcuni singoli Bisogna poi risolvere problemi Extranazionali Tipo Insigne con il contratto Tipo Donna Roma Con i vari malumori Col PSG Tipo questo Tipo quell'altro Insomma La nazionale Mo' sta attraversando Un periodo Un po' Così e così Soprattutto da parte Dei singoli E Ma basta Punto Cioè se Io lo ripeto Se Non dovessimo andare A mondiale Fuori i mancini Fuori dai coglioni I mancini Va bene Tutto il rispetto Tutta la riconoscenza Tutto Vabbè Tutto bello Per L'europeo vinto Ma Tu devi andare A mondiale Punto Devi far capire Ragazzi Che se non si va A mondiale E' una figura Merda Peggio Dell'ultima volta Perché Nell'ultima volta Avevamo Un incompetente In panchina Lui E il 424 Che si è andato A presentare A Madrid Con il 424 A Madrid Con la Spagna 424 Non ci ho pensato più Mannaggia Comunque là C'erano Diciamo Potevamo accettare Che non siamo andati A mondiale Certo è una figura Di merda Però avevamo Un incompetente In panchina E vabbè Mo Siamo una nazionale In crescita Abbiamo vinto L'europeo E se non vai A mondiale E' una figura Di merda Ma io Detto questo Fatevi sapere la vostra Questo video È abbastanza breve Però Ma io Amma passà Punto Cioè con la Macedonia Con Ronaldo Oppure Può essere pure Può essere pure Che la Turchia Dice Ah no Potrebbe fare il colpaccio Chi lo sa Perché il calcio è strano Il calcio è stranissimo Come è ovvio Anche la Macedonia Può fare il colpaccio Con noi E lo sottolinea ancora Se usciamo con la Macedonia Io mi incazzo Io mi incazzo Senza se E senza ma Ragazzi lasciate tante mi piace Un saluto a tutti Forza Italia Forza Napoli Ci vediamo Non lo so La prossima volta Ci è andata abbastanza di culo Anche se Cara Italia Devi ritrovare Te stessa Ciao a io